Siamo a Reggio Emilia. Perché Reggio Emilia? Città del tricolore, città dove ci sono state delle innovazioni a livello politico, ma ci sono state anche delle innovazioni a livello meccanico. E grazie all'amico Roberto Burati, che tra poco arriverà, perché come al solito è sempre indaffarato a preparare in questi giorni Monte Carlo, non solo Monte Carlo, ci ha portato a scoprire un qualcosa di nuovo, di innovativo, un qualcosa che non dico che sia una rivoluzione copernicana, ma che è un qualcosa che appassiona, perché è fatto col cuore, è fatto con l'anima, data dalla terra, da chi ha sofferto, non voglio fare giri pindarici nel discorso di terremoti, alluvioni, ma ha sempre cercato la concretezza, ma non solo concretezza, ha cercato anche la lungimiranza per lanciare un messaggio nel mondo del rally, il mondo del rally drogato, tra virgolette, tra know-how, tra case costruttrici, tra regolamenti estrusi, tra mille cose che rendono difficile per un giovane affacciarsi al mondo, che è il mondo del rally. Il mondo del rally è affascinante, c'è una bellissima differenza tra chi corre nel rally e chi corre in pista, nel rally devi improvvisare, devi capire e devi capire la macchina che hai. Non a caso siamo partiti da questa vettura, che vedete qua in questa factory, che poi Roberto ci spiegherà, dove è nata col cuore, su un'idea, l'uomo nasce dall'idea, l'uomo porta avanti le idee, ma non solo le idee, perché le idee possono rimanere nel cassetto, qualche di un altro ci ha provato in terre diverse, in Spagna, però questo progetto dove sicuramente, già approvato dalla federazione, dove c'è già un calendario, sarà sicuramente un qualcosa di diverso, per chi ha la passione, che non ha tanti soldi, che può investire una volta solo, a differenza di quello che succede adesso, cambiamenti di regolamenti, tutta innovazione che costano, qui invece uno può divertirsi, non solo per un anno, non solo per due anni, non solo per tre anni. Siamo partiti da qui e adesso con Roberto Buratti andremo a capire cos'è. Tenete a mente due simboli, N5, poi vi spiegheremo il perché, altra cosa. Eccoci con Roberto Buratti, nostro amico della VF Corsa, un amico che da 40 anni ci conosciamo, abbiamo vissuto e abbiamo amato questo sport di rally, lui ne capisce, io faccio finta di capirne. Roberto sa cosa vuol dire, è come una creatura grezza che viene plasmata, questo la N5 verrà plasmata, però partiamo da qua, Roby, tu hai avuto la fortuna, l'intelligenza di incontrare determinati personaggi, non a caso siamo qui a Reggio Emilia, perché? Sì, allora, siamo a Reggio Emilia nella TEDAC Racing, c'è un nuovo progetto, come hai detto tu, N5, pochi sono a conoscenza di questa vettura, la componentistica, la filosofia, sia Alfredo che Andrea sono due carissimi amici e ritengo che sia corretto e giusto dare lustro a questa loro avventura, perché secondo me si tratta di un'avventura vera e propria dove, come hai detto tu, ci stanno credendo, tecnicamente la macchina sta migliorando molto, come hai detto sempre tu, la categoria arriva dalla Spagna, la categoria N5 è stata completamente rivista e riprogettata dalla TEDAC Racing con delle componentistiche veramente di alto livello e a mio avviso è una vettura che potrà avere delle vere prestazioni da top car e non è da sottovalutare la presenza appunto di questa categoria che può essere plasmata e gestibile da tutti i team e utilizzata da tutti i piloti, dal ragazzo giovane al gentleman e sicuramente si divertiranno ad utilizzare una vettura del genere. L'altro lato positivo è la flessibilità del poter cambiare scocca, marca, mantenendo sempre la parte meccanica uguale per far sì che tutti possano attingere al marchio che preferiscono per ovvi motivi commerciali. Quindi una modella che può portare qualsiasi abito in qualsiasi occasione nel campionato italiano, nel campionato terra, nel campionato asfalti e anche nel trofeo dove ci sono anche dei bei soldi senza dimenticarci che chi investe qua alla lunga non solo si diverte ma ci guadagna anche. Sì, diciamo che questo è un prodotto che ha la doppia valenza, va bene per chi si diverte che utilizza la macchina e anche per il team che ha una macchina del genere, ha la flessibilità per essere utilizzata sotto tutti i punti di vista, sotto tutti i campionati e in più ha la logica del un prodotto che non diventa vecchio, cioè un prodotto che si rinnova con il modello della macchina ma non nella parte meccanica perché tutte queste meccaniche sono perfettamente reversibili e possono essere utilizzate su qualsiasi macchina. E poi noi stiamo attraversando un momento nostro dell'economia, della vita, dell'intelligenza artificiale. Qui non c'è intelligenza artificiale, qui c'è ancora l'uomo che è creduto, è ritornato alle origini e vuole far capire il perché di questa passione. Esatto, sicuramente questo è un progetto dove l'uomo è il punto centrale, dove la passione dei motori è il focus della situazione e ritengo che sotto il lato tecnico Andrea abbia veramente fatto dei lavori bellissimi e credo che chiunque utilizzerà questa macchina si divertirà. Bene, adesso andiamo a scoprire chi è questo Andrea. Andrea Carretti, il nome è una garanzia. Perché? Perché dietro a un grande progetto ci sono personaggi che vogliono dare e comunicare, ma ci sono personaggi che lavorano dietro le quinte e lavorano in maniera tale che il progetto dalla carta venga sulle prove speciali. Qual è stata la chiave di lettura per dire voglio fare l'N5? Una bellissima domanda questa. Voglio fare l'N5 perché questa è stata l'unica occasione che non si è mai presentata da sempre per poter costruire una vera auto da rally, il mio sogno da tutta la vita, poterla costruire da un foglio bianco, omologarla e renderla accessibile a un vastissimo parco clienti che può essere il giovane, il gentleman, il pilota che corre è poco. Però, ripeto, questa è stata l'unica volta, grazie ad Edo, che abbiamo avuto la possibilità di rendere reale un sogno. Ecco, tu sei come un pittore che davanti a un quadro che è bianco, ma tu sapevi già dal primo momento che sei entrato in officina e guardato le macchine perché è un progetto che si può adattare a qualsiasi tipologia di vettura e tu hai già visto anche nei minimi particolari, quindi sei un artista. No, non mi ritengo un artista. Io mi ritengo una persona che da sempre, fin da ragazzino, ho sempre cercato di fare la sintesi della sostanza. E qui dove è la sostanza? Qui la sostanza è praticamente arrivare a quello che conta in pochi passi. C'è tutto quello che serve, ma non c'è nient'altro di quello che non serve. È costruita da un meccanico, che sono io, che nel tempo ho imparato anche a disegnare un pochino, a progettare un pochino. So dove deve essere fatta in un certo modo per essere accessibile ai meccanici, so quello che serve a un pilota per esprimersi e quindi è una sintesi di una meccanica nobile. Un progetto alla finalità di rimettere su terra, su asfalto. Cosa ti aspetti dall'N5? Mi aspetto di raggiungere in breve tempo un'affidabilità costante, mi aspetto il piacere di guidare una vettura facile e mi aspetto anche delle prestazioni buone, molto buone, sapendo sempre che non sarà mai una Rally 2, ma però che sarà una macchina dove chi ha del cuore si potrà esprimere. Entriamo nel cuore della macchina. Come è il cuore? Il cuore è corsaiolo, è vero, è motorsport. Tutti gli organi sono di ultima generazione, la trasmissione è meccanica vera con due differenziali e non c'è più il centrale. Si potrà gestire gli autobloccanti facendo le regolazioni che vogliamo, cambiando le rampe, cambiando gli attriti. Abbiamo gli ammortizzatori di ultima generazione con le corse lunghe anche sull'asfalto, abbiamo rivisitato e guardato a modo la distribuzione dei pesi, centri di rollio. Tutto questo sempre facendo attenzione a non snaturare il progetto N5 e renderlo intercambiabile e versatile. Cioè noi tutto quello che è sulla parte anteriore lo possiamo montare sulla parte posteriore, tutto quello che è a sinistra lo possiamo montare a destra. quindi occhio ai costi, un ricambio per quattro ruote. Sono queste le cose che secondo me faranno forte questo tipo di vettura. E' la macchina che guida l'uomo o l'uomo che guida la macchina? E' l'uomo che guida la macchina. E' il sogno di ogni pilota? Sì, è il sogno di ogni pilota, sicuro. Amici di motori a 360 gradi, Sky 229, nella vita ci sono sempre personaggi che si divertono a correre, guardano la classifica e vanno a casa. Ci sono personaggi invece come Andrea Grugnola che viene l'ultimo rally 1000 miglia a Brescia, vede la classifica, ho già vinto il campionato italiano con quattro gare in anticipo, cosa faccio qui? Lasciamo spazio agli altri. E' vero o non è vero? Sei un cannibale? Vuoi sempre vincere o lasci spazio agli avversari? Ma no dai, sicuramente è sempre bello vincere, però quest'anno in casa dei Bresciani, anzi l'anno scorso, non è stato facilissimo. L'obiettivo era comunque già stato centrato e dunque quello che dovevamo fare l'avevamo fatto. Tu sei un pilota a 360 gradi, ti diverti la passione, la cultura del mondo dell'automotive e sei anche tu la ricerca di un qualcosa di diverso. E dare anche un messaggio, quello che stiamo dando oggi qua a Reggio Emilia, per i giovani, perché è facile dire io faccio, ma è più difficile arrivare dove sei arrivato tu. Ma sì, diciamo che c'è stato tanto lavoro, tanti sacrifici dietro comunque alla carriera che ho fatto e quest'oggi sono qui in Tedac perché sono molto orgoglioso di poter prendere a parte questo progetto tutto italiano. Sarà stimolante lavorare sullo sviluppo della vettura e non vedo ora di iniziare perché ci sono molte novità tecniche rispetto a quello che era la precedente evoluzione. Nella prima parte dell'intervista di oggi è emesso un dato importante, che è l'uomo che fa la differenza. Qui l'uomo può fare la differenza con la macchina? Ma può fare la differenza il collettivo. Siamo un gruppo di persone che ci stiamo imbarcando in questo appunto progetto e ce la metteremo tutta per tirare fuori meglio da questo prodotto. Ammi più l'asfalto o la terra? Diciamo che la terra sicuramente è più divertente, però su asfalto più esperienza, ha fatto molte più gare e dunque mi diverto su entrambe le superfici. Anche perché questa vettura la terra se la mangia? Sì, assolutamente. Diciamo che sarà una vettura sia per quanto riguarda l'asfalto sia per quanto riguarda la terra e dunque bisognerà fare un ottimo lavoro per renderla veloce. Complimenti per quello che fai e per il messaggio che dai. Grazie mille. Alfredo De Dominici, per gli amici Dedo, per gli appassionati Dedo. Un pilota, un appassionato, un che ha provato a correre macinando chilometri, facendo test, provando ogni tipologia di vettura. Però come ogni pilota, come ogni pittore, come ogni costruttore, aveva un sogno nel cassetto. riuscire a far guidare e appassionare i giovani al mondo del rally. Non è facile perché oggi come oggi voi andate da qualsiasi squadra, prendete la vettura che è fatta già. No, qui la vettura è lì, è pronta, deve essere amata, deve essere capita e Dedo l'ha capita. Beh, io devo dire che sono innamorato da anni di questo progetto, nonostante ho avuto la fortuna di poter guidare tutte le macchine, dalle VRC, Super 2000, R5, qualsiasi cosa, apprezzandole ovviamente perché sono il massimo, però non avendo grandi disponibilità, mi scocciava tantissimo che devo fare sacrifici per correre magari una volta. Quindi ho visto in queste vetture delle cose più alla portata e che mi avrebbero potuto permettere di guidare di più a parità di spesa. Ed è stata questa la cosa che qualche anno fa mi ha fatto avvicinare a queste vetture in Spagna, ci ho visto un grandissimo potenziale, le abbiamo portate in Italia e questo devo dare merito alla federazione che ha creduto in questo progetto e mi ha fatto piacere perché ha dato la possibilità a un privato di poter fare il costruttore, di costruire una macchina, di portare una macchina e omologarla. Abbiamo per anni fatto tramite il trofeo, abbiamo fatto avere uno spazio a queste vetture e nel frattempo, grazie all'amicizia che mi ha portato vicino ad Andrea Tedac, ho visto che c'era la possibilità di fare un prodotto più moderno, più adatto al mercato italiano, che è un mercato esigente, dove c'è un livello altissimo da un punto di vista tecnico e quindi la macchina spagnola che era nata nel 2010, diciamo in Italia faceva un po' più fatica ad avere il successo che secondo me meritava. E quindi è partito il progetto di fare una macchina nuova, sinceramente non speravo neanche che riuscisse così bene, sono veramente entusiasta del lavoro che ha fatto Andrea in questi tre anni di progettazione, eccetera, e oggi siamo estremamente contenti di quello che è uscito fuori, non vediamo l'ora di metterlo su strada. Vedo, è anche una macchina, a quanto ho capito quando ci siamo parlati, ci siamo sentiti prima al telefono, ho avuto il piacere di riconoscerti, che non ha spazio, non ha tempo, perché è una macchina sempre attuale, una macchina che è alla ricerca di bassi costi di gestione, però di soddisfazione per un pilota, tu sei un pilota, quindi sai cosa vuol dire avere tra le mani un volante, e di sapere che non è una macchina di breve durata, ma è una macchina di lungo respiro. Sì, quello è secondo me il punto nodale di tutto il progetto, noi siamo abituati ad avere una macchina da corsa che nel giro di tre anni fanno un po' la loro storia, e poi si esauriscono perché esce il modello nuovo e il modello vecchio rimane indietro. Nel progetto N5, per come è concepito, con una meccanica fissa e universale sulle vetture, questo concetto non c'è più, quindi un modello vecchio come la mia Clio del 2017, con tutta la nuova meccanica di questa Peugeot, di fatto è un modello attuale, e quindi chi compra queste vetture per dieci anni, diciamo, ha una macchina che resta ugualmente vincente all'interno della categoria, e questo non succede nelle macchine, non succede nelle moto, non succede in nessun posto dove c'è uno strumento tecnico, anche negli sci per dire, non rimangono, materiali cambiano, eccetera, qui ci potranno essere delle piccole evoluzioni, ma con il punto di partenza di adesso, di queste N5 2.0 per come le abbiamo evolute, noi adesso raccontiamo una nuova vita da qui ai prossimi dieci anni. Tu sei un pilota, sei un appassionato, ma sei un imprenditore, che numeri ti aspetta? È difficile dirlo, sicuramente c'è molto spazio, soprattutto in questo momento dove, me ne sono reso conto poco tempo fa, dove la Rally 2 di fatto sta prendendo il volo, cioè l'abbiamo vissuto per 4-5 anni, un momento in cui le R5 erano tutte quasi equivalenti, adesso si è creato un solco tra le R5 e le Rally 2 di ultima generazione e quelle che erano le Skoda del 2018 e questa cosa adesso apre un mondo a queste vetture come la nostra che sono perfette per quei piloti che non sono vincenti e che non sono, diciamo, di primissimo livello, che hanno la possibilità anche economica di andare sull'ultimissima generazione di vetture e rimarrebbero indietro all'interno della categoria R5. Qui c'è la possibilità di avere invece uno spazio nuovo con un'ottima visibilità e soprattutto a costi accessibili avere una vettura che ti dà tutto quello che serve per divertirsi. Per cui a livello tecnico è talmente di buon livello questa vettura che non farebbe rimpiangere le macchine di categoria superiore, assolutamente. Una vettura trasversale ama la terra come ama l'asfalto. Ma questo è una certezza, questa è una vettura che per come è stata concepita noi la possiamo mettere su terra e su asfalto, anzi, voglio anche esagerare. Si potrebbe avere due scocche e una sola meccanica, anche due scocche diverse. Io per esempio ho una Clio e ho una Peugeot, questa nuova che abbiamo fatto, ma la meccanica è la stessa, per cui io potrei avere una sola meccanica e due macchine. E in un'ora metto tutta la meccanica di una macchina sull'altra e magari ne uso una sola sulla terra e l'altra sullo suo asfalto. Quando inizia la grande avventura? Ma nell'arco di dieci giorni mettiamo adesso la mia vecchia Clio con tutta la meccanica nuova per i primi test e poi subito a seguire smontiamo la meccanica da quella, la mettiamo sulla Peugeot e iniziamo a fare anche con la Peugeot. Per cui nell'arco di 15 giorni, dieci giorni, 15 giorni, noi siamo in strada e hai visto anche con chi, oltre che me. Abbiamo visto l'amico Brugnona, pilota, una garanzia, una qualità. Che dire, motore a 360 gradi grazie all'amico Roberto Burati che ci ha portato in terra di Reggio Emilia, la città del tricolore. Noi la seguiremo, anche perché il mondo del rally ha bisogno di novità. e le novità le troverete in N5. Grazie e buonasera.